Io non mi sono inventato nulla di straordinario, ma solo una cosa che reputo di buon senso. Io prendo un foglio, io lo chiamo l'allegato A, perché lo leggo al mio mandato di vendita, dove ci sono una serie di 10-15 punti di attività che io farò per te, e dentro quando le farò e chi le pagherà solitamente io. Faccio un esempio, la fotografa. Io ti scrivo che entro 8 giorni ti porterò una fotografa professionista, e già investire un po' di soldi in una fotografa dovrebbe essere la base, il minimo per un agente immobiliare degno di questo nome, anche perché continuo a vedere annunci, sempre meno per carità, fatti con il telefono, con il grandangolo. Il classico è la foto in bagno dove si vede l'agente immobiliare che fa la foto e si vede nello specchio.